Sono Giancarlo Torta e sono titolare della confetteria Barbero di Carasco, dove sono nati e continuiamo a produrre i famosi baci di Carasco. Nel 1881 il fondatore è stato Marco Barbero, che era andato a imparare il mestiere di pasticcere a Torino. Per la famiglia Barbero si è tramandata le ricette e la tradizione di questo negozio per tre generazioni. Noi siamo i primi fuori dalla famiglia Barbero e dal 1998 siamo entrati noi. Per un po' di tempo siamo stati con loro per apprendere tutti i loro segreti, comunque ci tenevano molto che anche a livello di lavorazione e di ricette continuassimo a lavorare come lavoravano loro. E nei prodotti che abbiamo appreso da loro abbiamo mantenuto la loro metodologia di produzione. L'avredamento è originale, strane a qualche piccola variazione dovuta a cause di forza maggiore, tipo i frigoriferi che ovviamente li abbiamo inseriti noi successivamente. E al resto tutto quello che è stato possibile fortunatamente è stato mantenuto. Secondo me è importante che questi locali così vengano mantenuti tali perché è la nostra storia comunque.